La sfida crocetta, le divisioni nel PD, i trasferimenti di insegnanti, gli investimenti del governo nella sanità. È un momento importante nella politica regionale, sono le settimane in cui si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni di autunno. Davide Faraone, leader del PD siciliano, passato dall'incarico di sottosegretario dell'istruzione col governo Renzi, a quello di vice ministro per la sanità con l'esecutivo Gentiloni, sta avviando il suo percorso che potrebbe portarlo alla corsa per la presidenza. Nei giorni scorsi ha infatti dato vita al cosiddetto pensatoio che servirà a gettare le basi per un programma di governo regionale e dobbiamo avere la maturità invece per i produttori e per saperli anche praticare. Mi permette la battuta, al di là del nome brutto, il pensatoio, che cos'è? Non so se il nome è brutto, abbiamo semplicemente chiamato una cosa per quello che è, un luogo dove ognuno può mettere in campo idee e proposte. Noi purtroppo siamo stati abituati in Sicilia ad affidare tutto alla politica. La politica era diventata ed è l'unico strumento di risoluzione di ogni cosa. La segreteria del politico è lo sportello unico per la soluzione di tutto e non abbiamo messo in campo invece le migliori energie che ci sono nella società siciliana e che non per forza debbano venire fuori dalla politica. Ci sono intellettuali, professionisti, lavoratori e cittadini che possono... Di gente che concretamente vive le scelte. Assolutamente. A tutti questi noi ci rivolgiamo per mettere in campo un'idea di futuro della Sicilia. Per fare cosa poi? Per costruire un programma di governo che metta sotto sopra la Sicilia. Sotto sopra... Come sarà diventato il programma di governo del PD? Assolutamente sì. Cioè questo significa che o lei o qualcuno strettamente l'elegato della sua area politica, definiamola così, sarà il candidato alle primarie per il PD? Assolutamente sì. Io credo che queste idee di innovazione... Nel PD non siamo tutti uguali. Renzi ha rappresentato un modello di crescita della società profondamente diverso da quello che veniva rappresentato da altri esponenti del partito. In Sicilia è uguale. Io e Crocetta pur essendo iscritte allo stesso partito la pensiamo radicalmente in maniera opposta rispetto a tante questioni riguardo alla Sicilia. L'intervista a Davide Faraone, ospite nei nostri studi, sarà proposta integralmente questa sera alle 21 e domani in replica alle 14.40.